Schianto mortale, tragedia questo pomeriggio sulla provinciale Trapani Custonaciu, morto e una donna ferita nello scontro frontale tra due auto. Il completamento dell'anello ferroviario. Oggi a Palermo il presidente della regione siciliana oggi ha inaugurato la fermata libertà. 3 milioni di euro per l'acquacoltura aperto, il bando della regione che mira a sostenere le micro, piccole e medie imprese siciliane operanti nel settore. Buonasera e benvenuti con la terza edizione del Tg Sud. Iniziamo con la cronaca, tragedia questo pomeriggio nel tratto provinciale Trapani Custonaciu all'altezza del ponte Rio Forgia. Muore un 25enne ferita una donna. Tragedia della strada questo pomeriggio sulla provinciale 18 Trapani Custonaciu a circa 500 metri dal ponte Rio Forgia. Due auto, per causa ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente nell'impatto violento. Ha perso la vita un uomo di 25 anni, Francesco Grispo, che viaggiava a bordo di una Fiat Bravo. Ferita una donna di 59 anni che era invece sull'altra macchina una Dacia Duster. I due sono rimasti intrappolati tra le lamiere delle auto. Per estrarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Le ambulanze del 118 hanno provveduto ad accompagnarli al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate. Una corsa vana però per il 25enne. Le ferite riportate nello scontro non gli hanno dato scampo. Non destrebbero preoccupazioni invece le condizioni della donna che giunta al Sant'Antonio Abate è stata sottoposta ad un'attacca. La dinamica è al vaglio delle agenti della Polizia Municipale di Valderice, chiamati ora a ricostruire l'esatta dinamica. Sequestrati al mercato ortofrutticolo di Caltanissetta oltre 3 tonnellate di prodotti. Oltre 3 tonnellate di merce sequestrata e multe per 7.500 euro. Per il risultato dei controlli eseguiti al mercato ortofrutticolo di Caltanissetta da parte del Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia, del Corpo Forestale e della Regione, le verifiche hanno permesso di riscontrare numerose regolarità nel rispetto della normativa europea sulla tracciabilità delle merci e, in un caso, anche la violazione delle regole riguardanti l'etichettatura. Da qui l'esecuzione di tre sequestri amministrativi che hanno riguardato le 3 tonnellate di prodotti ortofrutticoli, tra cui 1.200 kg di loti e 590 di limoni. La merce, essendo facilmente deperibile, è stata destinata alla parrocchia Santa Croce di Padre Piero Rigi a Caltanissetta, che gestisce una mensa per i poveri e ad altri enti caritatevoli. Il Presidente della Regione, Renato Schifani, questa mattina ha inaugurato a Palermo la fermata Libertà dell'Anello Ferroviario di Palermo. Via! Bravi! L'attivazione della fermata Libertà in Viale Lazio permette di fare entrare in funzione il primo lotto di completamento dell'Anello Ferroviario di Palermo. Si tratta di uno dei grandi progetti per il rafforzamento del sistema di trasporto su ferro nelle aree metropolitane. Una città che cresce, una città che migliora la propria mobilità interna a favore dei cittadini, è un impegno delle istituzioni, un impegno corale, non è la vittoria di qualcuno. Tanto è vero che oggi siamo qui, il Presidente RFI, il Presidente Regione, il Sindaco, questo è sinonimo di armonia istituzionale. Io credo moltissimo nella collaborazione istituzionale, è un processo di concertazione sul territorio che sta andando avanti. Noi confidiamo, entro questa legislatura, di definire gli importanti appuntamenti, la media velocità della Palermo-Catania-Catena-Messina, non è la Regione, sapete, è un impegno nazionale, sono cinque lotti che stanno andando avanti per la media velocità. Poi il nostro sogno, il nostro impegno è l'inizio dei lavori del ponte, l'inizio dei lavori dei termovalorizzatori. Abbiamo tante cose da portare avanti e faremo di tutto perché siano portate avanti, senza sé e senza ma. All'inaugurazione della fermata Libertà ha partecipato anche, assieme al Presidente Schifani, l'assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò. È una grande giornata per la nostra città, questo quartiere che è stato da anni per anni penalizzato da questa opera fondamentale, comunque c'è stata un'accelerazione negli ultimi anni. Ringraziamo il Governo regionale per la programmazione, per aver contribuito per circa 68 milioni di euro in questa prima fase delle tre fermate, tra cui anche quella di Via Sicilia, denominata Libertà. Ringraziamo anche il Presidente di RFI, tutti i vertici e tutti gli operatori che hanno lavorato lacramente per completare l'anello ferroviario. Noi sappiamo che nei prossimi mesi si apriranno due fermate fondamentali per Palermo che sono Porto e Politiama e poi nei prossimi anni si chiuderà il famoso anello ferroviario che col passante di fatto doterà alla città di Palermo, a tutta la provincia, una metropolitana. 3 milioni di euro da parte della regione siciliana per progetti di acquacoltura sostenibile. Andiamo a vedere il servizio. La regione siciliana ha destinato 3 milioni di euro a progetti innovativi nel settore dell'acquacoltura finalizzati a favorire lo sviluppo, la trasformazione e la commercializzazione sostenibile dei prodotti ittici. Il bando, pubblicato sul sito del Dipartimento della Pesca Mediterranea, mira a sostenere le micro, piccole e medie imprese siciliane operanti in acquacoltura, molloschicoltura e acquaponica attraverso investimenti in nuove tecnologie per la produzione e la sicurezza. L'assessore regionale all'agricoltura e alla pesca, Salvatore Barbagallo, ha dichiarato il nostro obiettivo in linea con le direttive dell'Unione Europea è incentivare il miglioramento delle attrezzature produttive e di sicurezza, sia a terra che a bordo delle imbarcazioni di servizio. Sostenere un settore strategico come quello della pesca significa offrire agli imprenditori condizioni di lavoro sempre più moderne e sicure, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale. Ogni progetto potrà ricevere un contributo fino ad un massimo di 500 mila euro. Le aziende interessate hanno a disposizione 90 giorni a partire dalla pubblicazione dell'estratto del bando sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana per presentare le proprie candidature. Sul sito del Dipartimento è disponibile il testo completo del bando con tutte le informazioni necessarie per accedere ai fondi. A Palermo si sono tenute le manifestazioni per i 70 anni del soccorso alpino. Il soccorso alpino festeggia i suoi 70 anni di vita. Per l'occasione a Palermo, nella centralissima piazza Poliuteama, è stato allestito uno stand per far conoscere il soccorso alpino e speleologico siciliano, la sua storia, i mezzi e le attrezzature in dotazione, le attività che svolge in un territorio variegato come quello della Sicilia, sia in termini di formazione che di interventi in ambiente impervio. Vogliamo far vedere alla cittadinanza, al pubblico siciliano e non solo a chi si occupa di montagna, quali sono le nostre attività, i nostri compiti istituzionali, i mezzi e le attrezzature di cui disponiamo, nonché le tecniche e le metodologie con cui interveniamo durante i soccorsi in ambiente impervio, quali sono le pareti rocciose, le grotte, le scuole fluviali o addirittura fino alle scogliere. Una cosa che mi preme sottolineare è che i nostri volontari sono, per essere fatti a parte del Corpo Nazionale del Sottorso Alpino e Speleologico, devono sottoporsi a un intenso programma addestrativo che comprende lezioni teoriche ma soprattutto tantissime ore di attività addestrativa sul campo, che ci consente di avere una grande professionalità, cosa che ci viene anche riconosciuta dal legislatore natale. Le celebrazioni per i 70 anni del Corpo sono continuate ieri durante la manifestazione la domenica favorita, nello stand allestito dal soccorso alpino attraverso un monitor sono state proiettate in diretta le immagini della simulazione di un intervento di soccorso alla roccia dello schiavo, una parete verticale sul fianco di Monte Pellegrino. Lo scenario è stato quello di un alpinista bloccato in parete dopo essersi infortunato a 200 metri da terra, mentre effettuava una scalata nella simulazione, sei tecnici del soccorso alpino lo hanno quindi raggiunto per metterlo in sicurezza e riportarlo a terra con una speciale barella. Tre start-up di Trapani finaliste al Premio Cambiamenti 2024, CNA valorizza l'innovazione. Tre start-up della provincia di Trapani concorrono alla selezione regionale del Premio Cambiamenti 2024, il concorso promosso dalla CNA per premiare l'innovazione delle imprese italiane. All'evento Francesco Cicala, segretario della CNA e Giuseppe Orlando, presidente provinciale, hanno riunito i giovani imprenditori del territorio. In vista della tappa regionale dell'8 novembre a Denna sono stati selezionati il progetto di Samuele Montalto per l'ispezione con droni che permette rilievi su edifici, terreni, pannelli fotovoltaici e operazioni di ricerca e soccorso. Feelers, un social creato da Giacomo Brancaleone e Gianluca Coppola per la scoperta di musica ed eventi locali con un focus sul supporto agli artisti emergenti. E infine, intimo acronimo di Enjoy the Moment, l'app dei marsalesi Stefano Rallo e Antonio Angileri, una piattaforma marketplace per organizzatori di eventi e attività turistiche che semplifica la scoperta e la prenotazione di esperienze geolocalizzate. La CNA nazionale, regionale e della nostra provincia punta tantissimo sui giovani, i giovani sono il nostro futuro e dare forza, dare supporto a chi ha deciso di investire nel nostro territorio, di rimanere nella nostra splendida terra con tantissimi sacrifici, magari rinunciando ad altro nella vita, CNA non può che sostenere, aiutare, incoraggiare. Siamo qui presenti con tutta la presidenza provinciale di CNA che da anni si occupa come dirigenti di CNA, imprenditori di successo e con esperienza al servizio dei giovani per la loro crescita personale e professionale. Giovani che hanno deciso di puntare su quella che è la nostra rappresentanza e quelli che sono i nostri servizi. Per il terzo anno consecutivo CNA Trapani è stata riconosciuta come una delle CNA più virtuose d'Italia, un riconoscimento importante, un riconoscimento che ci dà ancora più forza rispetto a quello che abbiamo fatto perché abbiamo oggi la responsabilità addosso di andare avanti, di crescere, di non fermarci, di migliorare perché le imprese hanno sempre più bisogno di un'associazione come lo è CNA sia in termini di rappresentanza sia in termini di servizi. Parliamo di vela adesso a Trapani, l'elima conquista la settima edizione del trofeo Gian Giacomo Ciaccio Montalto. La barca elima degli armatori Sugameli Cappello della Lega Navale di Trapani si è aggiudicata anche quest'anno il trofeo Gian Giacomo Ciaccio Montalto, disputatosi tra le onde del mare di Trapani nei giorni 12, 13, 26 e 27 settembre. Ieri sera presso la sede della Lega Navale Italiana di Trapani si è tenuta la cerimonia di premiazione alla presenza di numerose autorità locali tra gli ospiti Alessandra Camassa, presidente del Tribunale di Trapani che ha premiato l'equipaggio di Elima. È una giornata bellissima, oggi Gian Giacomo Ciaccio Montalto è come proprio riportarlo un po' in vita perché per Giacomo il mare era la vita, era la vita insieme al suo lavoro, la passione per il suo lavoro, la passione per il mare e la passione per la musica. Io lo ricordo sempre così, immerso nei colori del mare e nei suori della musica, quindi credo che regalare a Giacomo questa giornata e questa regata abbia un significato molto particolare. Per la categoria crociera regata Orc B Elima ha guadagnato il primo posto seguita da Quattro Gatti di Andrè Casini e Naka di Luigi Ciaramino. Nella gran crociera Orc C, Blue Ice di Silvio Giglio ha trionfato, infine nella classe vele bianche Orc D, la vittoria andata a Yacar di Giuseppe Riffiorito. Direi che è stata eccezionale questa regata, ha visto protagonista 20 imbarcazioni, su 26 che ne hanno fatto richiesta. Ha partecipato a questa regata pure la nostra imbarcazione, denominata Vega, che è una barca che è stata sequestrata ai trafficanti di persone che arrivavano dalla Turchia ed è stata presa a Siracusa ed è stata organizzata a bordo una imbarcazione denominata la barca della legalità. Hanno partecipato a questa imbarcazione, a questa regata, tutti forze dell'ordine, guardie di finanza, capitenere di porto, carabinieri e magistrate. È una barca che al momento si chiama Vega ma ben presto cambierà il nome, verrà integrata con Ciaccio Montalto. Non era facile organizzare una regata quest'oggi con 20 nodi di vento. Le imbarcazioni sono state assolutamente competitive, è stato bellissimo vederle a mare affrontarsi in questa situazione di difficile navigazione. Hanno vinto con il sorriso, con la voglia di stare insieme per questa sì una regata velica ma soprattutto una manifestazione dove si ricorda un grande uomo, un grande eroe dei nostri tempi. Bene, questa era l'ultima notizia, adesso spazio alla pagina sportiva da parte mia di tutta la redazione, un buon proseguimento di serata.